Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Al solito, se vedete luci un po' strane in giro, c'è da farci poco. È il nostro tallone d'Achille, per davvero purtroppo si sfrutta quello che abbiamo. Oggi vi riparlo ancora una volta di stampe in 3D e nella fattispecie appunto stampe con l'Henicubic Photon e poi avete visto qui indietro, vi ricordate, ve l'abbiamo fatto vedere nel video di presentazione ma anche durante un paio di live, la Wash & Cure Machine, ma ve ne parlo a breve dopo la sigla. In particolare oggi vi voglio parlare di stampe fallite e vi voglio un po' andare a descrivere i motivi per cui appunto queste stampe hanno fallito anche perché ci hanno lasciato un po' a bocca aperta perché penso che sia normale inizialmente quando ricevi un prodotto soprattutto noi completamente nabbi perché ragazzi ricordo che per usare queste stampanti 3D si fanno corsi a pagamento perché non sono giocattoli, ci vuole anche un po' di tempo per conoscerle e anche per arrivare a una certa sicurezza appunto da adoperare la macchina, cosa che noi non abbiamo fatto e quindi siamo andati a tentativi vedendo video e secondo me la cosa migliore è sempre come un po' tastando il terreno piano piano alla fin fine capire dal tuo errore e cercare di migliorarti e inizialmente la prima stampa che abbiamo fatto andò benissimo e lì ci ha reso contenti anche perché si vede che il programma fra Prusa o anche C2Box o Key2Box come lo chiamano altri comunque quello aveva messo i supporti anche automaticamente messi bene e la stampa di quel necromante era venuta bene, vi ricordate il primo video che abbiamo fatto e quindi si era detto ma a questo punto qui basta fare tutto in automatico e stamperà bene qualsiasi cosa invece non era così perché successivamente abbiamo fallito tante stampe ma vi dico la verità, sarà anche stata una cosa tragica, un errore nostro ma noi fallivamo due stampe su tre quindi nemmeno una su due, due su tre cioè stava iniziando a diventare una cosa anche abbastanza frustrante perché alla fin fine non è che queste stampanti fra qualche anno sei di sicuro però non è che fanno una stampa in due ore ti dici vabbè ho buttato due ore, sai cos'è alla fin fine è un ride di World of Warcraft no, qui ci butti una giornata, magari ci butti 10-12 ore e poi la stampa non ti è venuta il problema è che nelle stampe 3D a resina è anche più difficile renderti conto di queste cose perché la resina, come vedete col piatto, la stampante a resina stappa a testa all'ingiù quindi piano piano che va giù nella bacinella, nel piatto prende la resina, fa il disegno con l'UV e lo tira fuori dalla resina te come fai a sapere se l'ultimo, magari fino a qui è venuto però da qui a qui, essendo a testa all'ingiù fino alla testa come fai a sapere se i dettagli sono venuti e lo scoprirai soltanto alla fine del lavoro mentre invece una stampante FDM stampando dalla base in altezza soffre meno della gravità e se c'è un errore diciamo che più o meno lo vedi strada facendo qui è già più difficile se che abbiamo fallito una marea di stampe e il problema principalmente era duplice uno sicuramente la resina scadente o comunque non buona quella base che ti danno in dotazione ragazzi non potete nemmeno sperare che in 230 euro 240 quant'è di stampante 3D spettacolare ti ci mettono anche due litri di resina mi sembra normale ragazzi anche perché alla fin fine quando avete comprato i primi 3-4 litri di resina avrete speso quasi quanto ricomprata la stampante quindi non potevate nemmeno riprendere tanto però diciamo che come resina di partenza andava bene per creare progetti senza supporti quindi la resina verde e quella trasparente del Lenny Cubic se fate progetti senza supporti tipo questa nave che è la nave da battaglia del caos di Warhammer 40.000 Battlefleet Gothic questa è stata fatta in pezzi praticamente la parte davanti la prua è un pezzo la parte centrale è un pezzo i cannoni qui al lato sono un pezzo e anche le cose radar sotto e poppa questa qui è stata fatta senza nemmeno un supporto perché la base era piatta quindi l'appoggiavi direttamente sul piatto e non c'era bisogno di supporti mentre invece per fare questi cannoncini magari la base soltanto non bastava e ci voleva qualche supporto a reggerlo magari laddove andasse a creare delle isole comunque l'avete vista è stata usata la resina verde del Lenny Cubic quella trasparente e non ha fatto nemmeno un errore è venuta fuori la nave del caos perfetta perché era supportless quindi primo errore che può capitare ragazzi quando iniziate a fare tanti errori di stampa ha detto bene un ragazzo che l'ha detto il 50% della colpa è della resina quindi voi potete essere anche aver fatto corsi vi è venuto il vostro amico a casa vi ha fatto vedere come si usa e la stampa è andata a buon fine ristampate voi la sera stessa e un ristampa più o dove ho sbagliato o usate il settaggio suo ma dove ho sbagliato anche lui ci stava iniziando a strapparci i capelli il 50% degli errori sono la resina ma non è finita lì abbiamo preso un'altra resina una resina sicuramente a presa rapida una resina comunque tipo ABS quindi andava a simulare un po' della plastica abbastanza resistente sempre del Lenny Cubic che è la resina bianca che io vi consiglio quindi se comprate del Lenny Cubic tra l'altro se vi serve un codice sconto ve lo diamo lasciate un commento qui sotto ma comunque trovate in descrizione la resina bianca del Lenny Cubic l'abbiamo presa abbiamo detto vediamo se è vero arrivata a casa rifatta la stessa stampa con i supporti che aveva fallito due volte l'ho fatta perfetta e precisa quindi si è detto vai risolti tutti i problemi giorno dopo si ristampa le stampe fallite con quell'altra perfette si arriva in fondo alternaziondo fine sondogiorno inizio terzo si inizia a stampare altri progetti che nel frattempo mia moglie è diventata comunque abbastanza esperta nel mettere i supporti creando isole cose del genere che poi vi vado a spiegare rifalliscono le stampe e si inizia a fallì a fallì a fallì perché il secondo problema della stampa 3D e ribadisco non c'ho stampanti FDM per ora quindi parlo solo di quella resina quindi che stampano a testa all'ingiù il problema sono i supporti perché si vanno a creare delle isole le isole cosa sono alla fin fine sono pezzi volanti mettiamola così che appaiono da nulla nella stampa ovvero immaginatevi che io sto venendo stampato a testa all'ingiù per farvi un migliore esempio guardate questa miniatura di Warhammer 40.000 questo qui è il capitano Sicarius del tra l'altro 39esimo numero di Warhammer Conquest una delle piedine più belle che abbiamo visto rigirate la testa in giù perché una stampante FDM ve la stamperebbe così partendo dai piedi e arrivando fino in cima anche la stampante FDM ha bisogno di supporti comunque sono messi diversamente però quando arriverebbe a creare qua giù a livello delle gambe vedete che il fucile è staccato dal resto del corpo se volete fare una figura unica quindi lui andrebbe a stampare il corpo del Marine però non ti stamperebbe il fucile il fucile te lo stampa quando te gli fai presente che c'è un fucile come glielo fai presente che c'è qualcosa di distaccato dalla figura principale mettendoci dei supporti quindi ci metti dei supporti che vanno a toccare il fucile e lui piano piano che crea la figura insieme ci crea anche il supporto e quando il supporto arriva alla fine il programma riconosce che il supporto è andato a toccare contro un'altra entità un altro pezzo che esiste che è il fucile quindi comunque mentre costruisce tutta la struttura della miniatura ti va a creare anche quella parte che altrimenti non avrebbe visto quello sia chiaro e originale di Conquest anche perché stampare quella roba lì a parte non la trovi va in galera giustamente perché sono roba della Games Workshop comunque il problema erano anche le isole e i supporti quindi abbiamo iniziato a cercare di capire dove fosse il problema poi c'è un altro problema nel problema perché anche se metti i supporti messi bene a volte te la fallisce abbiamo fatto un Geralt di Rivia fatto ragazzi c'ho brividi spettacolare per il dettaglio dell'Enecubic messo in terra e inginocchiato che medita avete presente quando meditate in The Witcher 3 con la spada messa dietro perfetta abbiamo messo 2-3 supporti male non gli è venuto il mento fate conto lui ha il viso tagliato fin qui il mento non ce l'ha e anche la bocca sopra gli è venuta bene e sotto praticamente una righetta quindi sembra senza mento e senza bocca e mia moglie ci ride e ti dispiace perché ci è voluto 12 ore per farlo sto Geralt tra l'altro tutto nel piatto quindi anche lei ti girano un po' le scatole perché? perché mia moglie nell'errore che si può fare nei supporti quindi errore nell'errore magari uno mette 190.000 supporti che gli è supportato anche la pupilla dell'occhio però sono troppo piccoli e fini quindi la stampante magari potrebbe fallire a farti quel supporto oppure esempio io in questo braccio ho bisogno di un supporto meglio metterci un supporto qui grande uno grande uno grande ce ne metti tre che mettercene 150 piccoli perché il problema se di questi 150 i primi 120 vanno a buon fine ma gli ultimi 30 non si sa perché sono talmente piccoli che si spezzano durante la stampa magari come fate a alzare e abbassare il piatto con i settaggi ve li rompe da qui a qui il braccio me lo fa bene da qui a qui un me lo fa capito? quindi c'è c'è tanti 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 problemi che non mi sarei mai aspettato assolutamente in una stampa 3D quindi siamo dovuti andare a rivedere mia moglie è dovuta andare a rivedere perché le fa tutte le stesse cose i supporti a cambiare i settaggi e la grandezza e le dimensioni perché i supporti piccoli ragazzi usateli per dettagli minimali proprio piccoli tipo che ne so in una figura già di per sé piccola un occhio ad esempio di un personaggio in scala Warhammer o anche più piccino tipo Descent un occhio non li potete mettere il supporto grande perché ve lo ruba quando poi l'andate a staccare ve lo rovina ci mettete quello sottile per andare a prendere una mano ce ne mettete uno medio per andare a prendere un busto ce ne potete mettere tranquillamente anche uno grande che lo regge dalle scapole da dietro quello non è un problema dovete andare a cercare di mettere il meno possibile quelli piccoli anzi non li mettete proprio metteteli solo nei dettagli proprio quelli piccoli 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 che volete salvare ad esempio se uno ha un teschio piccolino tatuato sulla mano o sul dorso o nose del genere e voi volete che nella stampa esca ce lo dovete mettere piccolo perché sennò il supporto una volta staccato durante in fase di stampa vi consuma ma nemmeno durante proprio quando lo crea vi consuma vi leva totalmente quel dettaglio quindi dettagli piccoli nelle zone piccole tutto il resto usate grandi e medi a tal proposito vi faccio vedere una stampa ok che è fallita due volte e alla terza è venuta nemmeno totalmente bene quindi se vi dovessi dare un voto la prima volta è venuto un 4 su 10 la seconda volta se è capito l'errore è venuto un 6 su 10 la terza volta è venuto un 9 su 10 quindi anche tre volte sbagliando e mettendoli perfetti non siamo mai riusciti a farla venire al 100% perché sicuramente avremmo sbagliato supporti avremmo sbagliato tante cose perché a volte i problemi sono tanti può essere anche un problema di FEP della stampante quindi se il FEP è rovinato dovete andare proprio si farà vedere il video manutenzione dovete andare a cambiare il FEP oppure semplicemente se nella vecchia stampa c'è rimasto incrostato un po' di resina che ha solidificato magari fa poca aderenza al piatto quando scende quindi rovina la stampa ma anche semplicemente avete fatto muovere il piatto su e giù troppo velocemente quindi la stampa dopo un po' si stacca o perché no la macchina si è scalibrata quindi consigliamo non la state a calibrare ogni volta che fate una stampa ma magari una volta ogni 10 stampe sì ecco tanto non vi costa niente metteci il foglietto di carta e facci il livellamento se non l'avete visto andate via a vedere il tutorial cosa ne penso che abbiamo fatto di questa macchina facciamo anche vedere come si calibra mia moglie che mi ha prestato le mani ragazzi se vedete le mani leggermente sporche perché ha dipinto finora tra l'altro quello space marine il capitano che vi abbiamo fatto vedere ora questa è la prima stampa che abbiamo fatto non è riuscita a stampare la gamba destra e successivamente anche il gomito sinistro perché qui è stato un errore nostro però fetentone anche quello che ce l'ha venduto perché l'abbiamo comprata a pagamento ci piaceva ha scritto i supporti li ho già messi io li aveva messi automatici con prusa di sicuro perché noi l'abbiamo preso messo sul piatto e non è riuscito a stamparlo ed ha fatto questi due errori e questa è stata la prima delle tre stampe che ha fallito il secondo fortunatamente se no davvero mi sparavo è andato oltre ha stampato tutto quanto non ha stampato un'altra volta il gomito come potete vedere però questa volta era un errore unicamente nostro umanamente nostro perché mia moglie era andata a mettere i supporti piccoli in una parte importante che comunque non ha retto quindi quei supporti piccoli hanno ceduto la figura l'ha fatta ma il gomito non è riuscito a crearlo interamente questo qui è la terza stampa vedete ci ha già dato il primer perché lo vuole anche dipingere ci piaceva molto finalmente siamo riusciti a farla però nelle stampe troppo piccole il dettaglio è difficile da vedere occhio ribadisco ancora una volta la resina ci arriva tranquillamente a fare questi dettagli quindi anche se stampate una formica con la resina 3D vi fa vedere assolutamente tutto il dettaglio il problema è che i supporti perché anche se i supporti sono messi bene come in questo caso vi andranno sempre a mangiare un po' di dettaglio comunque vedete che alla terza stampa e messi i supporti bene alla fin fine siamo riusciti a farla e direi che è uscita anche discretamente bene e penso che non ci possiamo lamentare assolutamente questa invece è uscita perfetta abbiamo fatto una tartaruga perché ci piaceva come elemento e anche come prova di stampa anche perché è bella caratterizzata sul guscio insomma c'era tanta attenzione particolari messi i supporti nel punto giusto e guardate che figata invece che è venuta questa è venuta veramente molto bene perché aveva poche isole ma ci abbiamo messo anche tanti 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 supporti messi bene nel punto giusto piramide dead si è rotta la spada ragazzi si è rotto il braccio quindi dobbiamo rincollarle tutto quanto però guardate è venuto tutto la punta della piramide ha fallito perché nella punta della piramide c'erano stati messi i supporti leggeri ma mia moglie non poteva fare altrimenti perché la punta era talmente fina ma ragazzi veramente cioè la capocchia di uno spillo era veramente finissima che era impossibile metterci un supporto grande ti avrebbe rubato via tutto il pezzo davanti del muso della piramide ci ha messo dei supporti leggeri la stampa ha fallito dopo nove ore è uscito il nostro piramide dead perfetto con la spada e tutto perfetto che trascina il corpo di quel demone quella statua cos'è la stampa è stata infine rovinata perché la punta è venuta così il pezzo il supporto ha fallito e quindi non gli ha fatto quel pezzo ed è non ti ci girano le scatole quando arrivi a fare quelle cose ritornando al discorso principale della resina verde che vi dà la ncubic di partenza abbiamo provato a stampare il ciuffo bianco ve lo ricordate no? il capo dei dei mogwai che diventano cattivi questo qui l'ha stampato tutto quanto è arrivato fino alla testa ha fatto tutto però le braccia non gliela stampate quando stacchi i supporti della resina tipo vetrosa questo qua sono anche molto più facili più fragili scusate pezzi tutto quanto e ci sta che ti vada a strappare il dettaglio comunque i nostri supporti non hanno retto e come vedete ora che vi fa vedere mia moglie le braccia sotto non le sono venute quindi anche qui abbiamo buttato via vabbè resina nemmeno tanta perché poteva essere tipo un 30 35 millilitri massimo 40 chi se ne frega su un litro il problema è che abbiamo buttato via 8-9 ore quindi preparatevi ragazzi ma non demordete cosa che invece io ho fatto e mi ha salvato mia moglie ammetto non demordete non vi lasciate andare perché abbandonereste un mondo veramente spettacolare ma un mondo ragazzi che chiede talmente tanta pazienza che voi non avete nemmeno idea intanto colgo l'occasione per salutare e ringraziare Andrew Play Altalezze e Paolo non dico il cognome ma tanto vedendo il video avrà sicuramente capito per tutti 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 i pareri le idee e gli aiuti che ci hanno dato a capire dove stavamo sbagliando nelle stampe quindi grazie veramente di cuore senza di voi ne avremmo fallite il doppio minimo ci tengo a ringraziare anche e soprattutto a nome di mia moglie due gruppi facebook Anycubic Photon Italia ed Anycubic Photon Printers Owner che sembrano scioglilingua perché anche lì ha avuto pareri insomma ha avuto anche in un gruppo internazionale magari si è andata a confrontare con altre persone e è sempre dei gruppi che io vi consiglio di iscrivervi perché se avete un problema vi rispondono ma soprattutto gente che c'è i vostri stessi problemi e piano piano quello che ti dà un consiglio che ti dà un consiglio magari arriva all'esperto o anche capisco dove hai sbagliato te si cerca insomma di mettere tutta sta pasta in comune e di tirarci fuori i meno errori possibile io ancora una volta ringrazio l'Anycubic per averci fornito la Photon e averci fornito anche la Wash & Cure Machine che ancora una volta vi ricordo ragazzi noi abbiamo una collaborazione una partner con loro quindi se vi serve materiale guardate in descrizione fino al 30 di giugno poi speriamo ce ne vediamo anche altri ci sono dei codici sconto da utilizzare codici sconto tanto trovate tutto in descrizione per acquistare la Photon e codici sconto per acquistare la Wash & Cure Machine quindi ragazzi se dovete acquistarlo vi consiglio di farlo da qui al 30 perché potete usare anche questi codici sconto io ringrazio di cuore veramente l'Anycubic per tutto quello che ci ha fornito veramente grazie immensamente ricordatevi che deve essere completamente pulita perché si potrebbe sporcare il FEP si potrebbe sporcare anche il tavolo di stampa o incrostarsi e poi andate a rovinarla completamente ragazzi non sono giocattoli ripeto quindi un attimo veramente romperle fatemi sapere cosa ne pensate ringrazio ancora una volta l'Anycubic che trovate in descrizione i link per acquistarle tutte e due a prezzo scontato ciao ragazzi alla prossima grazie a tutti